Sarebbe il complice del 33enne che rapinò lo scorso 19 settembre a Cappelle sul Tavo, un distributore di benzina in manette, finito così un 58enne di origine sarda, bloccato ieri sera dai carabinieri di Pescara, mentre stava cenando presso la mensa Caritas di via Alento. L'attività condotta nella serata di ieri è stato il coronamento di un'attività di indagine che aveva appunto portato all'arresto in flagranza di un rapinatore saccente. La rapina fu consumata da un distributore il 19 settembre e destò un certo allarme poiché è consumata attraverso l'uso di un mitra. I rapinatori si diedero alla fuga e furono immediatamente intercettati da una pattuglia della stazione di spoltore in transito che notò l'anomalia del comportamento del mezzo e si pose all'inseguimento. Poco dopo il mezzo dei malviventi andò fuori strada nel tentativo di seminare. Due persone si diedero alla fuga nei campi, uno appunto il saccente fu immediatamente arrestato e trovato con l'aria furtiva, mentre l'altro il complice fino alla serata di ieri era rimasto un'ombra, un volto senza nome. Maggiore, la particolarità di quest'uomo è che si recava spesso a mangiare presso la mensa Caritas di Pescara. Sì, il Mallussa, il 58enne arrestato ieri di origine sarda, era un fantasma in quanto da tempo era senza fissa dimora e quindi abbiamo dovuto estendere le ricerche in ambito nazionale, tant'è che era stato dichiarato lo stato di latitanza e nel frattempo abbiamo cercato di raccogliere informazioni. Il cerchio si è stretto appunto sulla città di Pescara quando ieri sera è stato bloccato dopo un'attività certosina di analisi di tabulati telefonici e di celle, è stato individuato intorno alle 19 presso la Caritas di Pescara dove si recava saltuariamente a mangiare.